Imparo tutti i nuovi trick segreti di StumbleGuys, grazie ovviamente a Powa! Il solo e unico quello che insegna tutti i trick! Ma intanto, scusami un attimo, ma quella skin quanto è bella! Dov'è che l'hai presa zio? L'ho presa, guarda, meglio che non te lo dico, l'ho pagata 1500 gemme e l'ho presa nel negozio, lascia stare, fidate! Devi tipo spendere un rene per... Frate, però è bellissima, mi sa che dopo l'andiamo a prendere! Comunque Powa, tu oggi mi dovrai insegnare tutti i trick segreti! Hai una grandissima responsabilità addosso, quindi stai pronto! Iscriviti al canale, lascia un bel like e commenta con il tuo trick preferito per ricevere un bel cuore! Allora Powa, facciamo così però, se riesco a imparare tutti i nuovi trick vado a shopparmi, anzi mi shoppi te la nuova skin, ok? Eh sì certo, se non cadessi come un piccio sì! Eh esatto, vedi di non cadere più come un piccio perché tu mi devi insegnare i trick ad esempio qua, cosa posso fare? Ma dove sei poi? Eh, ce l'ho caduto, dammi due secondi! Allora, lì c'è un trick che però è molto difficile, anche io ogni tanto non lo so fare! Se mentre si gira il cubo rosso tu fai una roba del genere... Cioè, allora ti butti a peso morto, riesci a volare! Non ho, non ho, ti giuro, non ho capito perché tu ovviamente ogni volta che insegni i trick sei scandaloso nel parlare e nel spiegarli! Io non so come cacchio si spiegano, sono difficili! Ah, io ti dico, ok figo si può volare ma non me l'hai fatto! Ma ragazzi, come al solito, ditemi nei commenti che voto date al maestro Powa, tipo uno probabilmente! Aspetta Refe, posso recuperare in questa maniera! Tu, vieni dove sono io proprio, vieni, facciamo peso qua, ok? Continuo a fare peso qua e io adesso blocco completamente... No, 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 vai, vai, doveri prima! Ok, aspetta, 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 vado, vado, vado! Eh, ma così si qualificano tutti tra nera e feeds, porca miseria! Non c'è problema, non c'è problema, ok? Io adesso sto bloccando, io adesso ho bloccato, nessuno può più venire su! Bella cacchia! Powa! Powa, qualificati! Powa! Oddio! Perché questi trick non hanno funzionato? Ok, non funzionava, fratello! Non funzionava per niente! Ma funzionava quel trick lì! E qua, Powa, siamo nella tua mappa, super slide! Se non la sai fare, sei veramente scandaloso, te lo dico, eh! Non la so fare, io non la so fare, innanzitutto tu non prendere le palle! E comunque, guarda qui che trick che posso fare! Col calcio posso usare il super trick! E in che senso, col calcio? Che super trick è? Scusami, col calcio! Quando vai sopra il rimbalzerino, tu usi il calcio prima? Oltre che andare più veloce, usi anche il trick! Cioè, c'è, che trick è però, Powa, spiegami! E, 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 quel solito trick! Io intanto ho già finito la mappa! Ah! No, porco mondo, sono caduto, non ci credo! Questa cosa mi farebbe andare a vincere, ragazzi, tra poco! Super mega trick che non è neanche fatto da Dio, in realtà! L'ho fatto abbastanza maluccio! Ma comunque, sto arrivando anch'io alla qualifica! Ovviamente, Powa, sarà lì ad aspettarmi, guardalo! Stai, stai arrivando? Io sono l'ultimo cacchio! Io ogni volta che faccio i trick, non... Chi ha capito? Ma vinto Alan, allora! Alan! Alan! Allora, zio, visto che non ho fatto mezzo trick, me la scioppo da solo la skin! Va bene, prendi sta pelle, garantita, l'equipaggiamo che è, tra l'altro, bellissima! Mi dici nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate di questa nuova skin? Ma ora andiamo a fare altri trick segreti, nuovi, che può, ovviamente, non saprà insegnarci! In verità, io so insegnare sempre bene! Mi... Mi chiamavano... Mi chiamavano il professore di storia! Che cosa insegnavo di storia? Non lo so come manco io! Stello, dopo aver preso questa skin, io esigo da parte tua un insegnamento decente sui nuovi trick di questa mappa! Sia chiaro! Sì, io ti potrei pure insegnare l'unica cosa che ne abbiamo saltato, i 20 all'inizio, e subito, devi tornare indietro! Oh, porca l'azio, ti dico una cosa! Io qua ne conosco due, tu fai quello all'inizio, va bene? Che così poi lo vedono anche loro e capiscono di cosa si tratta! Però so fare questo trick qui, guarda che bello! Oh, oh, oh! No, eh, stavo scherzando! No, scherzo non è questo! Aspetta che lo rifaccio! Ragazzi, più che altro non lo sa fare! Comunque, non so se invece voi lo sapete, ma qua potete fare questo salto qua così! Finire sotto la mappa non era nei piani, in realtà! Oh, l'avevo fatto! Eh, ref, so come si fa, eh! Giuro, giuro, giuro! Ok, zio, io intanto devo accedere come si fa questo, se riesco, aspettate un secondino! Eh, sei riuscito o no? Eh, io ce la sto facendo, in realtà, ok? Il problema è che finisco sotto la mappa, non so per quale strano motivo, eccomi qua! Ce l'ho fatta! Sì! Ma, ref, in qualche modo ti direi... Ah, ecco dove sei! Non te l'avevo visto, gacchio! Meglio che ti vai a qualificare! Ovvio che non mi vedi, fratello, perché sono dall'altra parte, sono fantastico, sono... Sto usando i trick segreti che vedete solo in questo video, fratello! Qua qualche trick segreto conosci oppure no? Ti potrei dire di andare sopra quella... Non so cos'è, è un cestino rosso? Potresti andare lì, però c'è ad andare tu, scusami! Eh, se ci provo ad andare io, probabilmente si bagga il gioco, crasho il gioco e muoio, capito? Io ti dico, in realtà, io vorrei provare a fare una cosa ma ho tanta paura, praticamente saltare sopra lo spruzzo mentre indica proprio quella cosa lì che hai detto e magari ci arrivo, capito? Eh, ok, è molto difficile, però provaci, fra! Eh, ci ho provato e sono morto! Ah, ma che figata! Fratello, in questo momento sei su una mappa piena di trick, anzi, praticamente è un trick unico questa mappa, ma tu devi farmi vedere qualcosa di nuovo, tipo questo che non avevo mai visto, cosa stai facendo, Powa? Si può dare tutto sulla parte destra, l'unica cosa che è molto difficile, però, adesso io salterò questo trick, non in questo modo, ok, ma in questo, signori, attenzione, guardatelo il Powa, come brilla, signori, vai, fratello! Io adesso vado dalla parte destra, il mio obiettivo è andare solo dalla parte destra, sai cos'è? Facciamo così, non puoi toccare la terra ferma, cioè nel senso non puoi rientrare nella mappa per più di 10 secondi, va bene? Eh sì, e scusa, io come li prendo i checkpoint qua? Appunto, è qui che devi stare attento, se muori non hai più nessun checkpoint! Allora, allora, c'è un problema, lì non posso andare sopra, quindi in ogni caso muoio, devo per forza andare qua? Non hai preso checkpoint, eh? Ok, ho zero checkpoint, adesso io faccio così, senza checkpoint! E adesso vai tutto dietro, eh, mi raccomando, tutto dietro, ora dalla parte destra, signori, Powa vincerà, scrivetelo nei commenti, nel frattempo, guarda che trick! Mamma mia, fallo, 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 let's go! E, mamma mia, ragazzi, ragazzi, senza checkpoint, con i trick segreti, ovviamente! Fratello, io qua ho un trick che lo conosco, ed è quello di azzeccare tutti i punti verdi! Vai, wow, oddio, 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 oddio! Cosa hai fatto? Hai azzeccato tutti! Non ci... Incredibilmente incredibile, forzuto, The Rock, Powa! Ragazzi, non è mai successo, giuro, non ha le hack, Powa! Come cacchio hai fatto, zio? Non voglio sapere pure io, cacchio! Riffi, questa volta, oltre che a farti due trick che sono incredibilmente incredibili, ti li faccio anche vedere, uno è questo... Come, come, eh, ok, era bello, ma hai fallito un po' nel percorso, diciamo, eh! Posso fallire, guarda qua che roba, boom, mamma mia, ce l'ho fatta, eh! Lo fatti questi... Ok, vabbè, non è importante, qua comunque, qual è il trick segreto che ancora io non conosco? Basta che salti e tu puoi andare tranquillamente sopra questi boulder viola, l'unica cosa è che è un po' difficile, però ce la si fa... Eccomi qui! Uh, bellissimo, zio, riprovaci! No! È giusto, però, tranquillo che è giusto, ce l'ho fatta, ok? Salda lì, salda lì, vai, vai! Eccolo! Sopra il coso, ragazzi, questo non lo conoscevate per forza, eh, ragazzi, è bellissimo, complimenti, Powa! Grazie! Più che altro non trovo la sua utilità in una partita, visto che ti rallenta tantissimo, però è molto figo! Ho detto trick segreti, non hai detto bisogna vincere la partita per forza con questi trick segreti che non troverei mai in nessun gioco su... Eh, ne ho detto solo trick segreti, hai ragione lui, ragazzi! Fratello, qua io ne conosco un po' i trick segreti, quindi facciamo così, tu fai i tuoi, io faccio i miei, d'accordo? Ok, let's go, mi potrebbe piacere perché io sto trick non l'ho mai fatto in vita mia e non lo so fare... Eh, no, eh, invece l'hai fatto, zio, vedi? Sei fortissimo! È tipo una figata, c'è anche un altro trick che praticamente vai sopra una specie di roccia e poi puoi volare per tipo tutta la mappa, però è strano... Allora, zio, e quello lì io lo conosco ed è veramente complicatissimo, ma comunque... E questo obiettivo non ti devi qualificare perché devo arrivare là in fondo e far vedere a tutti un trick che ho scoperto che è fantastico, se funziona, eh! Efe, ma se a me piace la Nutella ci sarà un motivo, ti risolgo, lo so, però non voglio rubarti la partita, tanto sei qua, tra l'altro sei un pirla perché sei morto! Ma comunque non ti voglio rubare la partita! Guarda e impara dal maestro magico Refizzi! E intanto ci sono i bot qui, via bot, via! Guarda e impara, fratello, la vedi quella roccetta là? Una leggenda narra che ci si può arrivare, ma non in questa maniera, porca vacca! Non ce l'ho fatta! No, il bot, no, 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 no! No, ragazzi, ha vinto, ha vinto Dvorakova 1! Allora Nutella Powa In questo momento io sto venendo preso a pugni Da qualsiasi cosa, da qualsiasi ostacolo di questa mappa E non è un problema in realtà Lo sto notando Comunque qua ci sono un botto di trick Più o meno segreti, dipende Ad esempio ragazzi voi ovviamente lo sapete Che non dovete fare quello che ho fatto io in questo momento Perché continua ad essere preso dagli ostacoli È incredibile, come cosa porca miseria Allora, dicevo, il trick segreto Quello che ha fatto Powa Ovviamente di saltarli in mezzo lo conosciamo tutti Vero Powa? Sì, vabbè, questo qua è stra easy E poi c'è un altro qui che è molto carino Dove puoi andare tutto dalla parte destra Di questo, di queste isolette E rimanere per il resto della tua vita E non muori Powa oggi hai un po' perso il tuo Charm di triccatore nato, eh Te lo dico Vero, non è vero Io sto, sto usando tutto lo charm per te Oh, non mi qualifico Non si qualifica, non si qualifica E invece, signori Bravo Powa, bravo Powa se vinci questa partita ti regalo Eh, qualcosa Perché hai già la skin nuova in realtà Ti volevo regalare quella La Nutella, la Nutella 5 kg di Nutella, sì 5 te li mando a casa zio Te lo prometto Però devi farlo con tutti i trick che conosci Cioè, non lo so Schilla, fai qualcosa Ma qua non esistono trick in questa ma Lo so Ma se vinci ti do della Nutella Ricordati questa cosa, eh Vabbè, ti è piaciuto questo trick? Questo qua che ho appena ucciso? Sì, vabbè, non è un trick È tirare un calcio a una persona innocente Poverina Complimenti a Powa Ti sei giudicato 5 kg di Nutella Mi raccomando Se lo buona la Nutella Mi raccomando Se i trick di questo video vi sono piaciuti Vi aiuteranno Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale A direttamente A me non c'è 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 Bella boys A me non c'è